E' stata presentata ieri l'opera Donne spezzate dell'artista Stefania Spanedda collocata nei giardini di via Scillato e dedicato al ricordo delle 26 vittime nigeriane sbarcate lo scorso anno nel porto di Salerno. Un momento di commemorazione nei confronti di queste giovani donne la cui vita è stata tragicamente spezzata troppo presto. Alla cerimonia inaugurale dal titolo Nessuna violenza insieme all'artista hanno preso parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore alle pari opportunità Gaetana Falcone, assessori e consiglieri comunali ed i rappresentanti della scuola Giovanni XXIII di Salerno. Noi per questo evento che ha segnato fortemente la nostra coscienza civile abbiamo fatto una serie di riflessioni che poi si sono concretizzate anche in atti simbolici. Abbiamo nel giardino 8 marzo che abbiamo dedicato interamente alle donne abbiamo una scultura fatta dal liceo artistico che narra questa tragica vicenda nel cimitero monumentale di Salerno c'è un'opera del maestro Lista oggi facciamo quest'ulteriore intervento qui nei giardini di via Scillato e quindi credo che siano dei passaggi cadenzati che fanno in modo che il ricordo sia sempre vigile. Quando ho saputo della morte di queste 26 donne sono rimasta particolarmente colpita soprattutto per il fatto che fossero tante, molto giovani e anche per il fatto che molte di loro poi sono state seppellite senza identità. Questo fatto mi ha spinta a voler raccontare col mio linguaggio, cioè il linguaggio artistico, l'episodio, a voler fare in modo che rimanesse nella memoria collettiva. Quindi ho pensato che l'arte potesse non solo, che dovesse anzi non solo raccontare, cioè narrare la poesia ma potesse essere anche un messaggio per una denuncia sociopolitica. Ho voluto rendere omaggio a queste donne in maniera tale che l'osservatore potesse in qualche modo riflettere sull'opera e si faccia essere portatore di un pensiero di cambiamento. È importante che soprattutto, più che mai in questo momento, che tutti noi ci facciamo carico di un nuovo modo di relazionarci che deve essere fondato soprattutto sul comprendere l'altro su dei messaggi di accoglienza e di solidarietà.